Venerdì, al nord arriva una perturbazione. Giornata caratterizzata da un peggioramento del tempo in Emilia-Romagna, sul Triveneto e sulla bassa Lombardia, più asciutto altrove. Sabato, perturbazione atlantica. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di maltempo al nord-ovest, piogge mattutine sul Veneto e tempo più asciutto sul resto delle regioni. Venerdì, tempo instabile. La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse in Toscana e irregolari sugli appennini, nubi sparse sul resto dei settori. Sabato, la pressione è in deciso aumento. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà più nuvoloso in Toscana e con ampie schiarite altrove. Al sud, regime di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma con un cielo spesso irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Sabato, regime di alta pressione. In questa giornata il tempo sarà asciutto, ma il cielo sarà molto nuvoloso o anche coperto in Sicilia e con maggiori schiarite soleggiate altrove.